Lo senti lo fa, si 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 lo fa, siamo in diretta su Radio Studio Più, Mr. Ricky Leroy, 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 improve, Max, Public Relations, Big �ere! Marco, guess I will come! It's love, 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 baby Come and be the light by fire Welcome to the other side, Ricky Errick, 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 errick Tant l'attention, s'il vous plaît Police, nous allons accepter un compte pour la d'identité Sì, resta calma, e sono di siedopoli, con poserti che... Sì, sì, sognare richi, sì, ballare richi, suona, regalaci la musica, suona, facci ballare la musica, speciale con la porzione Media Records con Radio Studio Più, un ringraziamento al medico Mister CFB, in questo momento in diretta su Radio Studio Più. Un applauso per Ricky Leroy, fallo sentire l'Italia, Ricky, Ricky, Ricky Leroy. Lo senti, lo fa, sì, lo fa, Leroy. Ciao! 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 Grazie a tutti.